Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo, una giornata di mercoledì che a scala europea ci fa vedere fronti nuvolosi dalle isole britanniche raggiungere l'Europa centrale, da noi invece sull'Italia un anticiclone in arrivo dalla Spagna assicurerà bel tempo con cieli sgombri da nuvolosità e assenza quindi di precipitazioni di piogge. Nel dettaglio la prossima grafica appunto delle precipitazioni a scala europea ci fa vedere con i colori blu delle perturbazioni che scorrono oltre Alpe tra Francia, Germania, isole britanniche. Da noi questo campo di alta pressione con i suoi massimi proprio tra Nord Africa, Spagna e Italia per una bella giornata soleggiata. La prossima grafica ci conferma il sole, i cieli sereni o poco nuvolosi ovunque su tutto lo stivale e le temperature nel ruicoadro sono primaverili ovunque, ritroveremo massime tra 15 e 20 gradi, localmente potremo superare anche i 20 gradi al nord ovest e isole maggiori. Dettagli precisi scaricando l'app di Travi Meteo.